A fine freddo Bruzio si arriva, non per caso, ma spinti da una precisa volontà, visitare la Chiesa Madre dedicata a Santa Maria Immacolata. E' stato Vittorio Sgarbi a trasformare un dipinto in un copolavoro perché è stato attribuito al grande Francesco Solimena. Ma leggiamo le parole di Sgarbi. Ci sono molte buone ragioni per venire a fiume freddo. Dalle terrazze del castello si domina la marina con l'interminabile lungomare. Ma si sarà fiume freddo non soltanto per una consolazione della sguarda sulla natura nella condizione del sublime, ma per il pellerinaggio ad uno dei capolavori dell'arte barocca nella Chiesa Madre, la grande tela di Francesco Solimena. Mirabile è il regale San Nicola, vivacissimo il gruppo dei Putti, ma indimenticabile e mai più visto dopo Cravaggio, l'angelo grande e bellissimo, con le vesti strizzate che porti in cielo la tiara del santo. Mai Solimena sarà più virtuoso e più poeta come in quest'angelo che vigila e protegge il fiume freddo, nel suo volo felice e senza fine. Grazie. 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 Grazie.